Cosa di legge, vediamo un po', sulle mani, chi non è tirata, sulle mani, chi non è tirata? Cazzo di legge, Antonio di legge, nessuno si è tirata, sulle mani, sulle mani! Mi stiamo per proporre un testo delle donantate, mi voglio dover parlare tutti, questa è tutta la donantata, un testo che si suona nelle piazze salentine. A un certo punto partiamo a parlare delle persone morte dal grande della donantata. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!